La Basilica di Santa Croce, ricostruita per volere dei Francescani nel 1294 da Arnolfo di Cambio, è detta il Tempio dell'Italia e Glorie, perché al suo interno troviamo le tombe dei più famosi fiorentini e toscani. Qui, infatti, sono stati sepolti Michelangelo, Rossini e Machiavelli e Galileo Galilei. C'è anche una tomba monumentale di Dante, ma è vuota. L'esterno ha una facciata in marmo policromo, aggiunta nel 1863. All'interno di Santa Croce possiamo inoltre ammirare gli affreschi di Gaddi, nella Cappella Maggiore, che narrano la storia della Santa Croce e gli affreschi di Giotto nelle cappelle dei Bardi e dei Peruzzi, che illustrano scene della vita di San Francesco e San Giovanni Evangelista. Da non perdere l'alto rilievo e l'annunciazione, in pietra serena con dorature di Donatello, che si trova sulla parete della navata di destra e il monumento funevi di Giovanni Battista Niccolini, a sinistra dell'entrata, che si pensa abbia ispirato la Statua della Libertà.